Anche il discorso sui sindaci fatto il 2 di novembre perché hanno sentito le registrazioni al teatro di Valleggia, gira, 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 alla fine se i sindaci hanno accettato questo è perché siamo corrotti, perché ho portato dei soldi a casa, perché siamo corrotti, perché, scusa Cristina te lascio subito la parola, perché non c'è altro, cioè non c'è altro, o siamo veramente imbecilli, spero che non mi considerate imbecile e allora sono corrotto, per lì non c'è salvezza ragazzi. Grazie. 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 Grazie.